Riesciamo a farli 700 metri in auto senza che sbandiamo, pure sbattiamo, uccidiamo qualcuno Dio no 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 A fuoco, a fuoco, a fuoco, a fuoco, in acqua, in acqua Bah bah fa Sì Ciao a tutti ragazzi, sono Frank, ben tornato sul mio canale Oggi siamo qui con un nuovo video di Far Cry 3 E eravamo rimasti che dovevamo andare a rubare la divisa alle reclute Quindi ora andiamo a vedere un pochino dove si trova Allora detto al porto, quindi sì in effetti Vediamo quanti metri 700 metri Riesciamo a farli 700 metri in auto senza che sbandiamo, pure sbattiamo, uccidiamo qualcuno Vediamo dai Dio no 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 Arrendo voglio rubare una jeep Sta guardando il porno Quello Adios Fanno una bella mira Questo Vai Da qua Ovviamente tagliamo Parcheggiamo qua Parcheggiamo qua Bel parcheggio Bellissimo Cioè è perfetto Vediamo un pochino Non farti scoprire finchè non hai ottenuto l'uniforme del mercenario Ok Dai Eccoli Vai vai Andiamo Vai invatti Come faccio? Ancora tre settimane e torno a casa Bravo Ok Io direi di metterci qua dietro appena quello È invatti Ora io ho visto che da qua in teoria si sale Vediamo un pochino se magari c'è un'altra strada Un'altra strada no però c'è Uno spiraglio Non si vede niente Vabbè Ok si è girato Vai 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 Perfetto Ok vediamo un pochino Qua Qua Sega Oltre due Vabbè Andiamo qua Sarebbe una via più sicura Oddio Bel casino E come ci passiamo io da qua Posso passare da qua dietro Ok siamo passati Ci vorrebbe una birretta Oddio Sale sulla nave di OIT Ok In teoria Ce la facciamo tutta sott'acqua Perfetto Ah poverino Ok Oh bestiale Perfetto 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 Andiamo andiamo Eccomi Perfetto Eh Ah Perfetto Perfetto Vabbè è giusto Puoi dirla Ok Vatti a sentire il discorso Ehi Se ne fai parola con qualcuno Sei carne morta Vabbè 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 Andiamo a sentire il discorso Ah è in prima fila Addirittura Sottoposti Sottoposti Siamo qui per la grana Ma è per la felicità della mia gente Che mi alzo ogni mattina Ah Mio padre Buonanima Era un minatore Si svegliava all'alba tutti i giorni Fumava una sigaretta E se ne andava sottoterra Per quel meraviglioso Meraviglioso uomo L'azienda era Dio Ah Io porto lo stesso rispetto A questo mio umile business E mi aspetto che tutti facciate lo stesso È giusto Ora Ci sono soltanto tre regole Che dovete seguire Ok Primo Proteggete il mio prodotto Scopatele ma con dolcezza Bene Secondo Uccidete a vista i nati Ok Just a man Wow E butto dentro il forno Come polli arrosto Belli croccati Brutto Stronzo Ma Ora basta I selvaggi Vogliono mandare il mio lavoro a puttane Il mio orgoglio Mostrategli che non scazziamo Ok Dimenticavo Ho un'offertona per voi Un'isola privata Per la testa di Jason Broder Wow Scatacola Valgo un'isola Senti Senti tu Coso Possiamo prendere pure la barca Ok Con le barche vado meglio a guidare Perché vanno piano comunque Ok Perfetto Sono sceso dalla barca Ora puoi muoverti tra i mercenari Ma non devi farti vedere mentre fai cose sospette Giustamente Mentre uccidi Frangoli Bombardi Polguri Certo Tutta cosa normale Altice Mi ha proposto Di fregargli dei soldi Pensavo Se uccido i traditori Mi guadagno la fiducia di OIT Giusto Ma che cazzo Mi suicido Non sono l'unico a non sapere guidare Certo che come parcheggio Ecco No Perché non mi piace come guidi Quindi Basta Bisogna saper guidare Almeno potete prendere spunto da me Ecco la prima torre Bene raga Siamo giunti anche alla fine di questo episodio Come sempre spero che il video vi sia piaciuto Vi invito a mettere un like Se volete restare informati sui nuovi video E il canale Se vi interessa Iscrivetevi E ci becchiamo qui domani con un nuovo episodio Ciao Ciao Ciao